Musica Lo spray volumizzante, lucidante, rinforzante per capelli fini e sottili. Già il titolo, il nome, racconta tutto il mondo che si nasconde dentro la formula di questo prodotto. Questo prodotto che è il mio spray mai più senza, è un prodotto che è nato da una mia personale esigenza per dare maggiore volume e corposità ai miei capelli fini e sottili. Devo dire che assolutamente da quando è nato non riesco più a farne a meno, sarò anche di parte, però per i miei capelli va alla grande. Ha una formula leggera, non appesantisce assolutamente i capelli, proprio perché è l'ultima cosa di cui avrebbero bisogno i capelli fini, trovarsi un prodotto che ha una quota grassa, che quindi tende a renderli subito unti o sporchi. In questo caso ci tenevo tantissimo che fosse una formula molto leggera, molto idratante, quindi che dia maggior sostegno a quei capelli che tendono sempre a rimanere attaccati alla testa. Infatti io lo applico sui capelli appena lavati, prima di asciugarli con il fono oppure fuori al sole, sulla radice, quindi un spruzzo da all'incirca 30 cm, in modo che viene distribuito in modo uniforme, non più di 3. Uno spruzzo qui, uno spruzzo qui, uno spruzzo qui e poi qualche spruzzo sulle lunghezze, quindi ma proprio al massimo arrivo a 5 spruzzi in totale, proprio perché non voglio appesantire i capelli. È difficile che questa formula riesca ad appesantirli, però ovviamente se uno utilizza 15 spruzzi, insomma l'effetto che si ottiene è ben contrario. Anche lo spray volumizzante come lo spray anticrespo contiene gli acidi della frutta, quindi l'acido tartarico, l'acido malico, l'acido citrico, derivati da appunto melle, uva rossa e limoni, il cui ruolo nella formula è proprio quella di andare a richiudere le squame e di lucidare i capelli, quindi di lasciarli luminosi grazie al pH acido. Spesso e volentieri io sostituisco appunto il risciacuo acido che faccio con l'aceto utilizzando esclusivamente questo spray, proprio perché a lungo andare temo che magari utilizzare sempre ogni 3-4 giorni il risciacuo acido possa risultare magari controproducente. La formula dello spray contiene anche l'aloe vera, il sodio ialuronato che è l'acido sodico del acido ialuronico, contiene anche la betaina, la provitamina B5, il pantanolo, dei potenti umetanti che contribuiscono a proteggere i nostri capelli, a mantenerli idratati e a renderli più elastici. L'azione volumizzante, come ci avevo prima, è data appunto dalla sinergia che si va a creare tra l'idrolizzato bio di nocci verdi, di foglie di nocci verdi, assieme alle proteine idrolizzate dell'avena. Si riescono ad amalgamare con la cheratina dei capelli e avvolgono il fusto in questo film trasparente, invisibile, che protegge i nostri capelli e che li rende anche più corposi. Nello stesso tempo, il fatto pregio di questo spray è il fatto che appunto i conservanti sono conservanti grado alimentare, quindi conservanti che troviamo nel nostro cibo solitamente. Riassumendo velocemente questo spray capelli, è un prodotto con una formula leggerissima, quindi non appesantisce assolutamente i capelli, contiene ingredienti da agricoltura biologica, contiene ingredienti al 100% naturali di origine vegetale, quindi non contiene ingredienti di origine animale oppure di origine sintetica, non contiene allergeni, non contiene alcol, non contiene siliconi, non contiene parabeni, è ideale per i capelli fini, sottili, capelli che hanno bisogno di maggiore sostegno, capelli che tendono ad appiattirsi e quindi per chi vuole dare maggiore corposità, è ideale anche per i capelli sfibrati, rovinati, disidratati, proprio perché tra le proprietà di questo spray, i benefici di questo spray, una delle principali proprietà è il fatto che idrata i capelli, grazie alla presenza dell'aloe, del sodio iaronato, del pantanolo, quindi la propietamina B5, grazie alla presenza della betaina, quindi che è un cocktail praticamente di ingredienti che aiutano a risotturare, a rafforzare e soprattutto idratare i capelli deboli e sfibrati. Svolge un'attività volumizzante grazie alla sinergia che si va a creare tra l'idrolizzato bio di noci verdi e di foglie di noci verdi e le proteine idrolizzate dell'avena e svolge anche un'attività lucidante grazie alla presenza degli acidi della frutta. E niente, secondo me solo provando lo potete capire che meraviglia è, quindi spero che con questo breve video di presentazione dello spray capelli volumizzante io vi abbia in qualche modo aiutate a fare un acquisto consapevole, quindi capire meglio se i benefici che i vostri capelli ne potrebbero trarre dall'utilizzo di questo spray possano incontrare le esigenze dei vostri capelli. Spero che il video vi possa tornare utile, se avete qualche altra domanda o qualche altro dubbio scrivetela sotto il video, sarò felicissima di potervi rispondere e ovviamente noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao! Ciao! Ciao!